fratelli tanto amore Dio vi benedica buongiorno gloria a dio grazie signore eccoci qui un altro giorno a benedire il signore signore ti benediciamo oggi signore grazie che oggi ci darai tante cose belle signore ci darai il tuo amore la tua guida la tua protezione ti chiedo lo stesso per tutti i fratelli in giro signore per tutte le nazioni signore aiuta li benediceli oggi signore riceve rivelazioni da te signore nel nome prezioso di gesù amen angelina cosa abbiamo questa mattina una breve storia però con un bel insegnamento la storia dice un giovane era alla fine di se stesso stanco di tanti problemi non vedendo via d'uscita si inginocchiò in preghiera signore non posso andare avanti ho una croce troppo pesante da sopportare il signore rispose figlio mio se non riesci a sopportarne il peso metti la tua croce giù entra in quella stanza e scegli la croce che desideri il giovane era contento e tanto sollevato grazie signore sospirò e fece ciò che era stato detto entrando nella stanza vide molte altre croci alcune così grandi che non si vedeva le loro sommità poi trovò una minuscola croce appoggiata al muro più lontano signore vorrei quella e il signore rispose figlio mio quella è la stessa croce che hai messo giù depositato che stavi portando ai 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 fine della storia gloria signore alleluia gesù alleluia aiutaci non lamentarci signore non lamentarci come l'uomo signore della l'uomo della storia che era scoraggiato perché non aveva scarpe e doveva camminare scalzo e allora si sveglia la mattina abbattuto perché perché io non posso avere un paio di scarpe e allora andò per la strada camminando e vide un mendicante e di ogni però tra il suo mendicante e questo medicante non aveva piedi gli mancavano i piedi e allora lui lo guardò continua per la strada cominciò a sorridere ringraziare il signore c'è sempre qualcuno che sapeggio di noi fratelli c'è qualcuno che è più ammalato qualcuno che è più povero qualcuno che ha più problemi in famiglia qualcuno che sta morendo dobbiamo guardare su grazie che sopra le nuvole sopra il temporale sopra la bufera il sole brilla sempre gloria gloria signore gloria a te signore ti amo ci benediciamo ci sono a me guarda qui c'è qualche scrittura sì mi vorresti leggere la prima per favore primo corinzi 10 13 primo corinzi 10 13 nessuna tentazione vi accolti che non sia stata umana però dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze ma con la tentazione vi darà anche la via ad uscirne affinché la possiate sopportare primo corinzi 10 13 e questo chiunque ha camminato con gesù chiunque salvato chiunque è nato di nuovo sa che questa la verità sa che ogni volta che va da gesù lui sempre ti è lì sempre di da una guida una parola un incoraggiamento però diventare da lui dobbiamo andato in preghiera con il pensiero guardare lui nello spirito poi puoi vederlo puoi guardarlo a occhi chiusi perché nello spirito che devi guardare e allora vedremo che nessuna tentazione nessun problema è mai troppo perché come dice qui dio è fedele e lui si assicura lui coi suoi angeli si assicura che non siamo tentati al di là del nostro sopportabile gloria al signore guardi c'è un'altra bella scrittura qui secondo corinzi 1 4 e 5 il quale ci consola in ogni nostra afflizione affinché mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi da dio consolati possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione perché come abbondano in noi le sofferenze di cristo così per mezzo di cristo abbonda anche la nostra consolazione secondo corinzi 1 4 e 5 grazie signora grazie gesù il signore e lui si chiama anche il consolatore lo spirito santo è il nostro consolatore ci consola che gesù è andato in cielo e dal cielo lui ha inviato il consolatore per prendere il suo posto solo che gesù prima poteva solo consolare in un posto alla volta invece adesso con lo spirito santo gesù è onnepresente ovunque ci fermiamo e preghiamo e pensiamo al signore e gli parliamo e aspettiamo che ci risponde il signore ci risponde il signore ci aiuta e mi dispiace per le volte che non l'ho fatto per le volte che mi sono rifugiato nella mia furbizia intelligenza nella mia carne e ho sofferto tante cose in vano fratelli i saggi quelli veramente intelligenti vanno subito dal signore non aspettano di spaducchiare la testa a destra a sinistra perché a volte si dice sì a volte dice no a volte ci dice aspetta se non risponde sempre solo che non è sempre come la vogliamo noi che noi siamo anche capricciosi deve essere come diciamo noi e perché mio coniuge non capisce che io ho di solito ragione non è così la cosa alleluia allora secondo corinzi 4 16 al 18 perciò non ci scoraggiamo non ci scoraggiamo ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo si faccia anche con gli anni il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno perché la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande smisurato peso eterno di gloria mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono ma a quelle che non si vedono poiché le cose che si vedono sono per un tempo ma quelle che non si vedono sono eterne secondo corinzi 4 16 a 18 gloria gloria signore il mondo insegna a credere solo quello che vedi ah sì fammi vedere il vento fammi vedere la luce nessuno ha mai visto la luce la luce è invisibile può solo vedere può solo vedere riflessi l'effetto della luce la luce è invisibile Dio è luce è invisibile però dobbiamo mostrare al mondo gli effetti di Dio della sua luce attraverso il nostro amore nostra amicizia i nostri sorrisi le nostre parole gentili il signore ci aiuti specialmente quando abbiamo momenti difficili mostrare questa luce perché tutti hanno una croce da portare tutti hanno problemi nella vita però se noi come cristiani abbiamo quel sorriso in mezzo a momenti difficili è lì che diamo un esempio a tutti gli altri è vero certo adesso per noi è facile predicarlo non è che noi ci riusciamo sempre no però veramente fa una grande differenza l'atteggiamento che abbiamo in mezzo a una difficoltà se abbiamo l'atteggiamento di scoraggiati signore non ce la faccio questa croce troppo pesante allora si proprio ricevi quel quel frutto quella quel risultato di questo scoraggiamento cioè negativo però se invece è un atteggiamento positivo io con cristo posso ogni cosa perché lui mi fortifica altri hanno una croce più grande di me io ce la farò con gesù gesù è la mia forza e vedrai che il risultato è positivo e la testimonianza di tante coppie che c'è uno c'è la moglie c'è il marito che a volte sono un po debole nello spirito e si arrabbiano odiano si vendicano e allora la persona più spirituale deve mostrare amore umiltà sopportazione quello è il più spirituale quello è quello che c'ha sempre ragione e quello è il pacificatore è quello che cerca di calmare le acque ma quello che dice tu non capisci quando io c'ho ragione è quello lì bisogna bisogna avere pazienza con quelle lì e a volte siamo noi quelli lì grazie signore un'altra scrittura secondo corinzio 12 9 a 10 ed elli mi ha detto la mia grazia ti basta perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza perciò molte molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di cristo riposi su di me per questo mi compiaccio in debolezze in ingiurie in necessità in persecuzioni in angustie per amore di cristo perché quando sono debole allora sono forte secondo corinzi 12 9 e 10 alleluia alleluia grazie signore signor ti benediciamo signor voglio pregare per i fratelli signore che oggi tu li gli scaldi il cuore signore che parli loro anime e che il tuo amore li tocca la tua gioia la tua pace la tua serenità signore io ti ringrazio che quando io io stesso sono sovraccarico a volte lo sono e il tuo spirito viene però io devo venire da te ci vuole è un incontro dio non fa tutto dio non fa tutto non è che bussa la porta se qualcuno mi odia apre la porta però se non apre la porta io la sfondo non è così io busso dice gesù se qualcuno apre la porta o della mia voce io entrerò da lui dobbiamo fare la nostra parte fratelline non diciamo dio deve fare tutto dio dio si è limitato non vuole fare tutto che non vuole qui dalle sacche di patate che ci sposta di qua di là vuole ci ha dato l'arbitro della scelta abbiamo la scelta di amare e odiare credere o essere increduli e sacco ripieno per gesù a mezzo cuore cercare interessi di cristo o i nostri prima interessi di cristo oppure prima i nostri la nostra questa nostra scelta è come la moglie che fa i suoi interessi prima del marito o viceversa marito cioè che matrimoni è questo come i tuoi interessi tu vedete sia sposata non è più i tuoi interessi avete i vostri interessi la donna stolta distrugge il matrimonio con le sue stesse mani o il marito le volte che mi mi sono scoraggiato che che non ho confidato non sono andata da gesù molte volte mi è successo così per questo che sono la capocchia tutta ammaccata perché ho dovuto battere su questo parete con l'altra parete per dire ma sai che non ho pregato sai che non sono andata da gesù se ci sono preghiere così 44 chiacchiere preghierina religiosa signore e poi c'è la preghiera vera quella tutto cuore quello quando parli a gesù come a un amico migliore amico e aspetti finché ti risponde a volte abbastanza dieci secondi un mezzo minuto un minuto almeno un minuto che cambia la tua vita cambia come minimo quella giornata la giornata piovosa diventa radiosa alleluia signore ti amiamo ti benediciamo signore grazie grazie signore che tu non ci rigetti mai anche quando sbagliamo che ci meritiamo patapum tu perdoni basta che ci pentiamo tu perdoni sempre che dio meraviglioso che abbiamo gloria a dio angela di benedica anche a te alleluia anche a voi fratelli un abbraccio fratelli grande immenso vi voglia bene ciao tanto amore ci risentiamo domani mattina amen